Salve come ti chiami di cosa ti occupi? Ciao sono Marino Bonetti mi occupo, sono il direttore vendite della Cougar, un'azienda che produce impianti per serigrafia a livello industriale e siamo specializzati nella stampa su vetri automotive. Perché hai deciso di partecipare a questo evento? Beh direi che il marketing è un componente fondamentale del lavoro di oggi e quindi non si può prescindere dal marketing se vuoi vendere. Quale ti sta piacendo di più di questa edizione? Diciamo è la freschezza con cui vengono date le informazioni in maniera leggera e uno può rispolverare un po' le conoscenze che aveva precedentemente, ritirarle fuori dal casello, riutilizzarle nel lavoro di tutti i giorni. La tematica che hai trovato più interessante fino ad ora? Mettere il cliente al centro della vendita diciamo, quindi avere la percezione di quello che è la sua visione di te, del tuo prodotto, della tua azienda e non fare viceversa come purtroppo si tende a fare. Quindi consiglierebbe ad altri di partecipare, se sì per quale motivo? Beh senz'altro di partecipare, noi della nostra azienda siamo presenti in tre quindi direi che ci crediamo e quindi speriamo che anche gli altri ci seguano.